benvenuti ben ritrovati oggi res pubblica sicilia chiama europa in questa prima parte ha il piacere di ospitare paolo petralia camassa assessore a palermo alle politiche giovanili all'innovazione tecnologica sport turismo e spettacolo come va tutto bene procede molto bene tante le difficoltà ovviamente nell'amministrazione in questa fase in cui abbiamo anche diciamo una dimensione contabile e finanziaria molto complessa che purtroppo investe moltissimi comuni siciliani e non solo ma una straordinaria esperienza e soprattutto un lavoro costante che mi ha insegnato tantissimo beh siamo ormai a un mese e mezzo circa dalla fine del mandato e secondo di l'elucorlando due anni e tanticchia di esperienza da assessore a palermo una città metropolitana difficile da comprendere quindi da gestire da portare avanti mi piacerebbe capire in breve se possibile questi due anni e tanticchia per paolo cosa hanno significato beh moltissimo sotto tutti i punti di vista nel senso che confrontarsi per una persona che ha grande passione per la politica sin da piccolo confrontarsi con una dimensione così estesa che ovviamente implica anche problemi molto più estesi e quindi delle soluzioni che devono essere necessariamente più complesse talvolta anche un po' più come dire discusse attraverso un sistema di partecipazione che è sempre un elemento straordinario dell'attività politica certamente è stata l'esperienza che mi ha regalato uno sguardo verso la realtà molto più chiaro devo dire più complesso ma molto più chiaro e più lucido prima di questa esperienza avevo una straordinaria passione politica oggi posso dire che la politica assume un valore superiore proprio perché amministrando ci si rende conto di quanto sia da un lato difficile e dall'altro straordinariamente interessante e entusiasmante affrontare i problemi avendo la possibilità di poterli affrontare direttamente esercitando la propria funzione tu hai stato un battesimo del fuoco praticamente direttamente buttato a Palermo nel vero senso della parola immagino hai dovuto un po' sgomitare per farti apprezzare da diversi punti di vista ma ormai sei una concretezza lo dico io ma non puoi dirlo tu lo dico io certamente all'inizio soprattutto l'impatto con la città e con anche il mondo politico della città di un giovanissimo trapanese che tra l'altro arrivava dall'Olanda perché io stavo lavorando in Olanda è stato un po' complesso nel senso che i partiti vabbè è normale i partiti le realtà civiche le realtà politiche insomma hanno lamentato nei confronti del sindaco Orlando una certa non condivisione diciamo di questa nomina detto ciò il sindaco che ha il potere di scegliere i propri assessori liberamente e poi ognuno utilizza i propri metodi ha fatto una scelta che secondo me poi ha pagato soprattutto in determinati settori dove una partecipazione giovanile è necessaria e strumentale per una crescita prendiamo ad esempio l'innovazione tecnologica Palermo è cresciuta tantissimo non torno con i numeri perché li ho detti già tante volte anche in questa trasmissione però certamente lì c'è stato uno scatto una svolta dovuta evidentemente anche al covid che ha facilitato l'inserimento di questo percorso di digitalizzazione all'interno della pubblica amministrazione noi oggi come Palermo abbiamo l'anello telematico più esteso rispetto a tutte le altre città d'Italia fino a un mese fa abbiamo deliberato in giunta l'ultima parte di estensione nella zona di Mondello e Sferracavallo e potrei citare altri interventi, molti interventi che sono stati fatti con il percorso di digitalizzazione e poi dall'altro l'impatto è stato forte inevitabilmente perché il confronto con una città così complessa, così grande dove in realtà convivono diverse città perché Palermo è divisa in circoscrizioni ogni circoscrizione ha almeno 65-70 mila abitanti la più grande circoscrizione ha più di 120 mila abitanti è chiaro che confrontarsi con una realtà del genere vuol dire stare in mezzo alla strada tutto il giorno cosa che io ho fatto proprio per conoscere anche i problemi da vicino e dall'altro essere nelle condizioni e mettersi nelle condizioni con una squadra adeguata di poter intervenire Ma fare l'assessore a Palermo tempra o snerva o distrugge? Per me, per carità parlo di una questione estremamente personale per me è stata fino ad oggi una straordinaria esperienza che si stanca, forse l'età non mi dà la possibilità di stancarmi in modo particolare o eccessivo ma certamente ha entusiasmato e mi entusiasma nel senso che da un lato ciò che entusiasma tantissimo è la città Palermo è veramente un centro nevralgico di tantissime realtà e tantissime culture a partire dalla multiculturalità architettonica fino anche alla storia di Palermo anche quella voglio dire più profana dalla storia delle strade dalla storia delle carceri che venivano utilizzate ad esempio per le streghe ci sono tantissime anime in quella città che fanno davvero di Palermo una città unica e quindi l'attività del politico chiunque esso sia in quella città si nutre di questa grande forza Un'anima è essere andata proprio in questi giorni Letizia Battaglia Per esempio, Letizia Battaglia ha rappresentato per Palermo oltre che per il suo ruolo se vogliamo di cronista fotografica nella fase delle stragi ma ha rappresentato ben altro Letizia Battaglia sarebbe come non voglio dire dispregiativo ma assolutamente diminutivo legarla solo alle foto delle stragi o alle foto delle operazioni è stata un'icona ma è stata anche una traghettatrice di un interesse del mondo della fotografia su Palermo noi oggi abbiamo il centro internazionale di fotografia a Palermo ai cantieri culturali della Zisa e abbiamo tantissime attività che ruota attorno a questo settore e certamente Letizia Battaglia è stato fulcro di questa attività poi Letizia Battaglia è stata anche assessore del Comune di Palermo e come assessore del Comune di Palermo ci sono storie straordinarie su Letizia Battaglia che fanno percepire anche lì quanto la città aiuti il politico anche ad assomigliare alla città stessa e ad intervenire affinché si possa migliorare la condizione di tutte e di tutti nutrendosi, ripeto, dello spirito di questa città che davvero emana tantissime emozioni da tutte le parti Senti, ma tu ormai sei più palermitano o sei ancora trapanese? No, io sono trapanese e devo dire il sindaco di Palermo, Leluc Orlando, molto spesso anche non voglio dire che punta il dito contro di me, però a volte Ti punzecchia? No, mi punzecchia perché dice che io ho sempre la testa a trapani, che spesso parlo di trapani che molte volte cerco di trovare, come dire, una formula per legare sempre di più queste due realtà ma lui non è assolutamente contrario, semplicemente a volte mi prende in giro perché sa benissimo che io ho un legame viscerale con questa città Al cuore non si comanda E quindi è inutile negarlo, ma lo sanno tutti Molto spesso quando faccio gli interventi pubblici nel ruolo di assessore a Palermo anticipo la discussione o l'intervento dicendo sappiate che io non ho un accento palermitano Senti, quindi guardando adesso la tua città trapani con gli occhi di chi ha visto la città importante di Palermo come la trovi? Io trovo trapani sicuramente molto più in forma di qualche anno fa Su questo non ho dubbi e non ho dubbi nemmeno rispetto alle prospettive che Trapani ancora oggi ha solidificato per il futuro Dopodiché riscontriamo anche una forte riattivazione di tutta quell'attenzione che sta attorno all'aeroporto C'è un intervento sul porto che secondo me anche gli consentirà una solidificazione di questo potenziale turistico e attrattivo per i visitatori e per i turisti e non solo su Trapani Probabilmente un elemento che secondo me un po' sfugge ma non è una questione di amministrazione ma che un po' sfugge diciamo l'animo politico della città nel senso che credo che il consiglio comunale di Trapani non tutto naturalmente hanno esitato tantissimi atti importantissimi però sia un po' venuta meno come dire la parte di contributo politico che si deve dare alla città e che ha a che fare appunto con quell'anima può sembrare un discorso molto fumoso, molto astratto ma quando si esercita un ruolo amministrativo comunque si esercita un ruolo politico tanto è vero che a scegliere il proprio amministratore è il cittadino sulla base delle sue idee allora ci si aspetta che un'amministrazione ma anche ripeto i rappresentanti politici della città esprimano la loro posizione politica anche rispetto alle politiche cittadine e secondo me a volte a Palermo è una cosa che sicuramente ho visto molto superiore nel senso che, faccio un esempio su tutti le iniziative per esempio sul Gay Pride a Palermo si sono addizionate, sommate, moltiplicate perché c'è stata un'attenzione politica dei rappresentanti in consiglio comunale molto forte e quindi anche dell'amministrazione che è stata sempre sollecitata e a Palermo il Gay Pride dura un mese faccio un altro esempio, su Palermo ci sono delle attività che insistono sulle strade del centro storico per esempio Corso Vittorio Emanuele come le vie dei Librai, faccio un esempio o una marina di libri, ci sono tantissime manifestazioni ma che provengono da una volontà politica che ha stabilito un percorso qua si riscontra che per esempio recentemente oltre alla candidatura per capitale del libro è stata fatta un'attività molto ben definita e specifica sulla lettura e questo è apprezzabile, per me questa è attività politica credo che ci sia bisogno ancora di più di questa spinta politica e culturale da parte soprattutto del consiglio comunale evidentemente sì Senti siamo ormai a un mese appunto è qualcosa dal rinnovo della messa comunale a Palermo il quadro diciamo ancora non è del tutto chiaro ma è certamente abbastanza delineato timori e speranze dell'assessore Paolo Petraria in merito al futuro di Palermo i timori sono chiari e spero che la città non torni nelle mani di chi ne ha fatto quello che voleva e purtroppo non ha dato grande prospettiva oggi ci troviamo in una fase molto difficile dell'amministrazione questo non lo si può negare e non si può nemmeno negare che ci siano tante difficoltà irrisolte dall'amministrazione Orlando credo che questo vada detto con grande chiarezza e credo che vada anche a beneficio dell'attività positivamente svolta però questa è l'amministrazione che ha consentito un cambio radicale dell'attrattività di Palermo su un piano internazionale e anche europeo che ha cambiato completamente il volto del centro storico che ha iniziato un percorso che è quello del tram di una mobilità sostenibile questo patrimonio non può essere messo alle spalle buttato alle ortiche perché è il patrimonio che ha consentito a questa città anche di riscoprirsi in chiave internazionale dopodiché come ogni città del meridione e drammaticamente come ogni città della Sicilia c'è un spopolamento soprattutto dei giovani c'è una disoccupazione giovanile molto elevata c'è una disoccupazione in generale molto elevata questi temi li condividiamo ed è chiaro che questi temi vanno affrontati non solo in chiave cittadina ma anche in chiave regionale e nazionale detto questo la situazione politica palermitana è abbastanza palese a sinistra c'è un candidato unico che mette insieme tutte le forze dal Movimento 5 Stelle al PD alla lista del sindaco alle realtà civiche Italia Viva in l'ultima trasmissione che ho fatto qui avevo detto è chiaro il passaggio di Italia Viva Italia Viva va con la galla ma è una scelta legittima, nulla da dire ma Italia Viva ha preso posizioni completamente opposte rispetto al centro-sinistra e alla sinistra non solo della città ma anche in Italia da tempo quindi non è una notizia è una constatazione dall'altro lato a destra noi abbiamo invece una lotta secondo me anche palesemente intestina ma non solo su una leadership che dovrà stabilire invece quale sarà la candidatura del Presidente della Regione o quale sarà la composizione politica per scegliere la candidatura del Presidente della Regione perché lo dico è veramente inaccettabile e inopportuno che una città come Palermo venga utilizzata come uno strumento per potersi pesare o misurare rispetto ad un'altra competizione elettorale che si muove su altre regole e su altre logiche capisco che la politica intenda anche l'elezione palermitana come un metro, uno strumento per capire anche dove sta la leadership e dove sta al massimo la concentrazione del consenso però fare dell'elezione palermitana l'unico strumento per capire chi sceglierà il Presidente della Regione è vergognoso tant'è vero che a destra noi abbiamo una miriade di candidati perché ad oggi abbiamo La Galla e Faraone è entrato in coalizione con La Galla abbiamo Totolentini abbiamo Francesco Cascio abbiamo Carolina Varchi fino a pochi giorni fa poi c'è stata una convergenza con Forza Italia avevamo Francesco Scoma che era candidato della Lega e che oggi ha trovato invece la quadra con Forza Italia e quindi con Cascio abbiamo un elenco elevatissimo di candidati che a detta loro avrebbero potuto facilmente vincere al primo turno questa competizione su Palermo e invece ci ritroviamo in questa situazione di frammentazione che devo dire per chi guarda da sinistra è positiva va bene così fa impressione però da siciliano ecco che ci sia e credo faccia impressione anche Palermo le iniziative sono nella gran parte dei casi sempre dei laboratori in vista di competizioni un po' più attisonante anche a Derice un po' si dice ma questo è davanti agli occhi di tutti ci sono strategie anche in funzione delle regionali che sono in autunno ma anche in vista delle prossime elezioni dell'anno prossimo a Trapani quindi sono sempre dei laboratori a Derice come la vede la situazione? beh a Derice c'è una forte competizione secondo me anche lì molto legittimata dalla condizione dell'amministrazione ma anche dalla condizione politica di continuità dell'amministrazione è inevitabile quando c'è una lunga continuità perché c'è stato comunque il sindaco Tranchida poi abbiamo avuto la sindaca Danila Toscano è chiaro che poi come dire il desiderio di discontinuità sia nelle cose sia anche legittimo detto ciò le proposte alternative a Danila Toscano per quanto mi riguarda e secondo la mia personale posizione politica che credo poi sia la posizione anche condivisa dal Partito Democratico di cui faccio parte sono delle scelte alternative ma che non sono proprio derivanti da una logica strutturata da tempo io ho visto dei rimpalli e dei rimbalzi nell'ultimo periodo su chi doveva essere il candidato dei Fratelli d'Italia il candidato di Giuseppe Guagliana il candidato del Movimento 5 Stelle che francamente nell'elettore mi metto nell'ottica dell'elettore non creano delle straordinarie speranze perché trovare una sintesi nel momento in cui uno salta l'altro salta e poi troviamo la quadra su una persona che si è semplicemente proposta secondo me non si parte bene soprattutto non si parte bene per un altro motivo perché Daniela Toscano ha una linea e ha già spiegato cosa vuole fare nei prossimi 5 anni anche le altre forze politiche lo stanno spiegando lo hanno spiegato ma il motivo per cui è nata ogni composizione alternativa alla Toscano è proprio l'alternativa alla Toscano non è un'alternativa di governo o un'alternativa di progetto sulla città e sul contesto territoriale di Erice questo è quello che da osservatore io rilevo dopodiché la mia osservazione è anche sui numeri oggi ci troviamo con una candidatura con otto liste se non sbaglio di Daniela Toscano quindi anche molto legittimata dalla partecipazione al suo progetto e altre liste che non arrivano a quel livello ma comunque sono competitive e puntano naturalmente al secondo turno è una partita importante soprattutto perché ogni elezione che ha a che fare con questo contesto e con questo territorio si deve confrontare poi con una visione d'insieme quindi il rappresentante politico di una città piuttosto che di un'altra è centrale proprio nell'ottica di costruire la crescita del territorio senti tu darei un contributo in qualche maniera per Erice? Io su Erice sono convinto che le liste siano state fatte in modo assolutamente preciso attento naturalmente il mio contributo ha come riferimento le liste collegate al Partito Democratico secondo me c'è stato anche un atto molto importante fatto da una dirigente del Partito Democratico che in prima persona come dire si è spesa e si spenderà e si sta spendendo per candidarsi al Consiglio Comunale di Erice naturalmente il mio contributo riguarderà proprio la parte politica di cui faccio di cui mi onoro di far parte Dopo che finisce la tua esperienza da assessore a Palermo che cosa prevede il futuro? Per te Per me Ci sono tante voci in giro per ora Sì ci sono delle voci Una voce vorrebbe che potresti venire a fare l'assessore a Trapani sento dire queste voci Un'altra dice che rimani a Palermo non te ne frega più nulla della città ma tu hai appena detto che non è proprio così Un'altra ancora forse più consistente ti vorrebbe pronto a scendere in campo per le regionali Tutti ti vogliono praticamente Hanno scoperto la novità Paolo Petraria come funziona? Il problema è proprio lì Quando tutti ti vogliono forse c'è un problema Forse c'è un problema No allora io sono molto consapevole o meglio credo che la politica sia innanzitutto l'esercizio dell'ascolto e nell'esercizio dell'ascolto ascoltando il territorio non solo di Trapani ma di tutto il contesto anche andando oltre la provincia sia il partito di cui faccio parte e tutta quell'area sia un'area larga della politica in generale anche trasversale chiede una partecipazione di persone nuove e fresche come si usa dire Ora io non sono convinto che la giovane età sia come dire un elemento che certifica una condizione di bravura o di capacità perché ci sono giovani in gamba ci sono giovani non in gamba Vale per tutte le età Vale per tutti per adulti per anziani tant'è vero che io sono uno dei più acerrimi nemici dei limiti del mandato per esempio dei 5 Stelle nel senso che se c'è qualcuno che dà una possibilità concreta di migliorare un contesto un territorio una legge a tutti i livelli perché non farlo continuare perché tagliargli le gambe quindi su questo io sono sempre stato molto chiaro dall'altro rispetto alle volontà o rispetto alle disponibilità io attraverso l'esperienza palermitana mi sono reso conto che il territorio di Trapani ha una potenzialità immensa è tutto il territorio di Trapani mi sono anche reso conto certo anche prima dell'esperienza palermitana che Trapani evidentemente ha un bisogno ulteriore di non solo fare rete perché secondo me questo lo ha perfettamente capito tutto il contesto e con Palermo c'è anche una prospettiva di legame di rete in termini di promozione turistica che secondo me avrà una sua caduta a breve il tema però è un altro Trapani ha avuto un deficit di rappresentatività di rappresentanza a livello regionale che ci ha messi nelle condizioni di essere protagonisti in questi cinque anni solo una volta poi il direttore mi correggerà se vuole quando? con Misiliscemi ah ok cioè noi siamo stati nella discussione politica della regione siciliana e dell'assemblea regionale siciliana solo prevalentemente in occasione della discussione sul nuovo comune di Misiliscemi tra l'altro discussione complessa discussione secondo me è un po' fuori dal tempo per alcuni versi ma è una discussione che andava presa perché c'è stata una volontà popolare che andava naturalmente poi investita e sul quale bisognava fare una valutazione ora a me sembra un po' riduttivo che in tutti i cinque anni uno dei pochissimi temi che è diventato diciamo più di che ha impattato l'opinione pubblica sia stata la formazione di un nuovo comune di Misiliscemi legittimo che sia così ma che sia stato l'unico problema ed è evidentemente un deficit è la come dire la rappresentazione di un deficit di rappresentanza che non solo Trapani città ha avuto ma anche il contesto provinciale di Trapani ha avuto poi devo dire un'altra cosa ci sono stati dei rappresentanti del partito di alcuni partiti come ad esempio Cinque Stelle che sono partiti con un mandato elettorale dei Cinque Stelle e stanno chiudendo con un mandato elettorale tradito stando con il governo Musumeci quindi l'elettore si sente molto secondo me spiazzato in quest'ottica allora io sono convinto e di questo messaggio non ho fatto comunicazione pubblica ho fatto comunicazione interna al mio partito perché io sono faccio parte di questo partito e credo che la modalità migliore la debba stabilire proprio il partito nella scelta della classe dirigente a tutti i livelli io ho fatto passare o non ho fatto passare il messaggio sei giovane ma la penso all'antica da questo punto di vista non la penso all'antica a me sembra inopportuno almeno per quanto mi riguarda mi è sembrato inopportuno il mio voleva essere una specie di complimento perché mi piace quando c'è la politica che continua ad avere un ruolo i partiti che abbiano ancora un ruolo principale nelle scelte appunto del futuro per me ho 51 anni rispetto a te la vedo ancora come si usava una volta io lo dico molto banalmente si possono fare annunci di ogni tipo si può fare un comunicato stampa ma io faccio parte di un partito e ritengo sempre che il partito sia luogo lo spazio il centro che debba stabilire poi le modalità con la quale la propria classe dirigente deve muoversi deve essere stabilita deve fare delle scelte allora io ho fatto una serie di comunicazioni all'interno del partito all'interno del mio partito ho investito sia il nazionale che il regionale che il provinciale che il comunale comunicando una mia disponibilità a candidarti alle regionali a candidarmi alle regionali a seguito di questa disponibilità data che formalizzerò a giorni io sono convinto che il partito in un certo senso la stai formalizzando qua a Ressbubb anche anche io di questo ti ringrazio ringrazio l'emittente televisiva ma prova a fare ogni tanto concorrenza a Vespa facendo diventare le trasmissioni qui a Telesubb una specie di salotto politico in più per la città forse forse come struttura di capelli siete vicini i nemi stanno crescendo no i nemi per fortuna comunque scusami quattro cose le abbiamo risolte qua sappi tra dei politici per Ressbubb lo so bene lo so bene quindi io ho comunicato la mia volontà la mia disponibilità al partito dopodiché senza alcuna pretesa io non voglio fare un atto belletario ci sono sbandierare la bandiera del giovane in politica perché ci credo fino a un certo punto io credo che i processi politici vannano rispettati chiedo al mio partito di fare una scelta formale e democratica chiamandosi partito democratico per scegliere i propri rappresentanti ma non c'è già la candidatura la disponibilità di Dario Safina un altro trapanese nel PD sì ma potrebbe esserci la disponibilità di altri 6-7 nel contesto trapanese voglio dire la fortuna immagino non possono esserci due trapanesi candidati alle regionali a maggior ragione sono convinto che la compartecipazione la disponibilità plurima di più soggetti su Trapani metta nelle condizioni il partito di fare una scelta ancora più oculata e adeguata per le esigenze del territorio io sono convintissimo che la candidatura la disponibilità o meglio di Dario Safina sia giusta e soprattutto sia una disponibilità che sta nel percorso fatto da Dario Safina e nel percorso anche dell'amministrazione comunale non credo che tantissime altre anime del PD non abbiano lo stesso diritto e la stessa legittimazione a proporsi e a dare la propria disponibilità al partito mettendo nelle condizioni il partito ripeto di fare una scelta oculata precisa e attenta scusami ma a questo punto qualcuno potrebbe dire ma è stato un baremo è condicante un baremo alle regionali metti dalla prova intanto in consiglio come una a Palermo potrebbero dire ci sta a Palermo mi dicono quindi ti vuoi candidare a Trapani scusami ma allora perché non ti candidi qua allora il tema è allora è vero che tutti ti cercano no ma il tema è molto semplice su Palermo si è fatto un ragionamento di squadra sia col partito democratico sia con alcuni candidati all'interno della lista su Trapani io lavoro di squadra credo di doverlo sollecitare e credo che sarà assolutamente raccolto dai rappresentanti cittadini per dirla in modo ancora più semplice infatti dai per dirla in modo più semplice io sono troppo legato a questo territorio non voglio dire amo Trapani perché mi metterei in una condizione come dire di ambiguità però amo la città di Trapani ok sono convinto che però lo sforzo della politica debba essere oggi più che mai più solido più forte e più trasversale rispetto alla composizione stessa della politica noi abbiamo una politica che ormai è decomposta ci sono adulti giovani persone di mezza età va fatto un ragionamento molto più prospettico rispetto alla classe ma quindi a breve dovrei dimetterti dall'assessore questa è la prospettiva e questa è una prospettiva e naturalmente attendi che il partito decida perché non credo che decida ragioni se siete tu o Dario o altro no ma questo non me l'aspetto io dal partito mi aspetto ma come credo se l'aspetta anche Dario Safina che il partito prenda una decisione in maniera formale attraverso un metodo democratico che è principio carico quindi entrambi vi dovrete dimettere a breve e con l'amministrazione di Palermo con il sindaco io ne ho già discusso stiamo valutando anche il percorso per poter stabilire questa mia scelta per poter consentire questa mia scelta lo faremo insieme lo faremo sempre come abbiamo fatto con Spirito di Squadra quando ufficializzi questa tua disponibilità agli organi l'hai già fatto avviato la trafila però hai detto prima ufficializzerai con una lettera io ufficializzerò con una lettera perché formalmente sarò un po' troppo formale all'antica come dici tu ma ho una lettera pronta per il segretario provinciale ma di base diciamo che stasera già chi ci sta vedendo sa che sei disponibile a candidarti con il Partito Democratico alle regionali per la provincia di Trapani giusto? assolutamente sì assolutamente sì ed è quello che lo vogliamo ridire chiaramente è tra l'altro quello che ho comunicato magari qualcuno non l'ha capito seppure volo con Petraria a disposizione io l'ho comunicato tra l'altro ripeto a tutti i livelli del partito però siccome non è solo una discussione di partito immagino ma è una discussione di partecipazione della cittadinanza è una questione che ha a che fare con l'interesse della provincia di Trapani e di tutta la regione dello sviluppo economico ecco il lavoro che un giovane ha fatto in un territorio rispetto ad alcuni pezzi di sviluppo che si chiamano anche digitale che si chiamano anche transizione ecologica e tanto altro evidentemente io sono convinto debbano essere centrali nella competizione regionale facciamo poniamo il caso che partito opti per qualcun altro che non sia tu comunque a 10 giorni 15 massimo insomma dovrai se vai avanti con questa tua decisione dimetterti da assessore a Palermo eventualmente sei disponibile a guardare un ruolo similare a Trapani rispetto a Trapani io sono convinto che non si possa disperdere il patrimonio che è stato creato e che deve portare ad una crescita ulteriore soprattutto con la caduta di tutti questi finanziamenti in termini operativi di questi finanziamenti che sono stati reperiti ci sono degli interventi mostruosi e straordinari che potrebbero rigenerare la città come quello sul rione Cappuccinelli ad esempio ecco io credo che su questo bisogna investire e su questo la mia partecipazione sarà in prima persona su quello non vi è dubbio grazie avremo modo di capire nei prossimi giorni che cosa succederà e intanto ti ringrazio per l'anticipazione che hai dato appunto qui al resto pubblica e in bocca al lupo a prescindere per tutto noi salutiamo Paolo Petraria Camassa e adesso ci dedichiamo un poco a commentare brevemente facciamo questa disamina su come è andata la processione dei misteri del venerdì santo a Trapani arriva in studio il presidente dell'Unione Maestranze Giovanni D'Aleo pochissimi minuti secondi e arriva grazie a tutti grazie a tutti